Stenta ancora a decollare la raccolta differenziata in città, mentre nel vicino comune di San Cataldo la percentuale nel mese di dicembre è stata del 47,78%, a Caltanissetta nello stesso mese è stata del 13,62%, un dato che si attesta alla media regionale come fotografato dall'ultimo rapporto sui rifiuti urbani dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Tra il 2014 e il 2015 la raccolta differenziata siciliana è infatti passata dal 12,5% al 12,8%. Secondo i dati forniti da Caltambiente, la raccolta differenziata in città nell'ultimo triennio è incrementata di 5 punti percentuali, passando dal 7,8% nel 2014 all'8,3% nel 2015, sino al 13,62% nell'ultimo anno. Una percentuale ben lontana dal 65% è imposta dalla legge nazionale, nonostante il piano di emergenza portato avanti in questi mesi dall'amministrazione comunale a seguito dell'ordinanza numero 5 del 7 giugno del 2016 della regione siciliana, che ha imposto ai comuni dell'isola di ridurre drasticamente il conferimento in discarica. Rimane molto da fare, malgrado la campagna di sensibilizzazione avviata dal comune, l'utilizzo di cartelli affissi nei cassonetti per spiegare meglio ai cittadini come differenziare e l'uso di telecamere per sanzionare chi conferisce al di fuori dai orari prestabiliti. Intanto, con l'aggiudicazione della gara ponte, che servirà a coprire il servizio per un anno, rinnovabile per altri sei mesi, il cui iter è partito nelle scorse ore con l'apertura delle buste presentate solo da due ditte, sarà avviato il porta a porta, al momento attuato sulla Santa Barbara, anche nel centro storico della città. Con l'aggiudicazione del Piano Aro, la cui gara è al momento all'Urega, e che servirà a gestire la raccolta dei rifiuti solidi urbani per sette anni, si punterà a dare un'impennata alla differenziata, ma soprattutto ci sarà un cambiamento radicale che porterà alla tariffazione puntuale, ovvero ogni cittadino sarà individuato attraverso il codice fiscale o con delle card specifiche e si registrerà la quantità e la qualità di rifiuto differenziato. Per il 50% della popolazione si procederà con il porta a porta, per la restante parte saranno realizzate otto isole ecologiche di tipo intelligente per carta e cartone, vetro e plastica che consentiranno all'utente di registrare i conferimenti, mentre per l'umido saranno posizionati degli appositi cassonetti sempre di tipo intelligente nel resto della città.